Allora, la nuova sede del Movimento 5 Stelle sarà il teatro per presentare domani la vostra squadra, i candidati. Sì, siamo arrivati a questo momento per noi importantissimo, c'è la presentazione dei candidati alla città e si svolgerà infatti allo spazio 5 Stelle in Vianolfi 164 alle 18.30. Naturalmente invitiamo tutta la cittadinanza, avremo i nostri parlamentari uscenti come Patrizia Terzioni, Agostinelli, Cecconi che già i cittadini hanno avuto modo di ascoltare e di apprezzare nelle scorse settimane. Poi abbiamo il candidato per il seggio uninominale che è Maurizio Cattoi, avremo anche la presentazione dei due candidati per il plurinominale Fanesi che sono Rossini, Roberto e Rossella Cotto. Poi naturalmente ci saranno anche altri candidati e avranno modo appunto di rispondere alle domande e di parlare un pochino del programma in modo più approfondito. Quindi l'appuntamento è? L'appuntamento è domani in Vianolfi 164 allo spazio 5 Stelle alle 18.30. Cattoi, allora una squadra con quale substrato, con quale spessore vi apprestate a presentarla alla città? La mia è una candidatura di riconoscenza al Movimento 5 Stelle perché la squadra l'ho cominciata a conoscere a Roma durante i lavori parlamentari che ci hanno visti coinvolti come forestali l'anno scorso. Insomma ho capito la consapevolezza e la genuinità delle persone e questa genuinità e consapevolezza l'ho ritrovata anche nella squadra marchigiana che devo dire mi appare veramente un ambiente molto favorevole per lavorare bene e per lavorare in sintonia con il territorio. Per cui i nomi sono conosciuti e altri invece si stanno facendo conoscere adesso, professionisti del territorio, del diritto, della scienza e quindi sono pronto per dare il mio contributo.